Musica Rieccoci amici in ascolto, amanti dell'opera lirica, nell'angolo delle interviste. Questa volta l'angolo è il leggiadrito, perché non abbiamo più Rolando Panerai, ma bensì abbiamo Vivian Hewitt, giusto per... Corretto. Corretto, ecco, meno male. Vieni a vedere che prima è stata nominata dal maestro Panerai come quella che fa tutto. In realtà quella che fa tutto, chiariamo la qualifica ufficiale che abbiamo di factotum, come è? Figaro praticamente. Io di formazione sono regista, di volte in quanto faccio anche costumista, però in questa fatta specie prendo un passo indietro e faccio una sorta di trade union tra Regina Schrecker, che è uno stilista che è molto diverso che essere... È vero, è una stilista prestata al lavoro di questo momento. al mondo del teatro e poi un lavoro insieme tra Rolando Panerai e Enrico Musnich, che è raccordare la parte stilistica, cercare di creare tra le varie parti un'unità di visione che viene dall'idea che c'è e che deve essere uno stile di base qui. È un po' la responsabile dell'estetica di questo, Enrico Rito. Del coordinamento estetico, diciamo, e della funzionalità, perché per esempio Enrico ci ha portato tutta una serie di idee estetici e tra questo abbiamo dibattuto e scelto poi delle soluzioni che servivano anche al movimento sulla scena e alla praticità di tutto. Quindi fare tutto funzionare in base a quello che deve essere la dramaturgia e allo stesso tempo fa un lavoro di raccordo tra Regina Schrecker, che è molto abituato anche alle figure della moda, perché chiaramente chi sfila è alto, è bello, è perfetto. Non sempre un coro di 40 cantanti è molto diverso, non sono certamente sempre figure da ballerini o da fotomodelli e quindi cercare di trovare uno stile che rispecchia l'apporto della moda nell'eleganza e diciamo nella scelta coloristica, però che allo stesso tempo siano cose vestibili da persone che hanno 50 o 55 anni, perché sai, quando ci mette un pantalone di pelle e un giubbotto di pelle deve essere fatto in un modo che non diventa comica. Invece vedo che per esempio i cantanti di quest'opera sono felicissimi dei costumi perché si sentono bene dentro, si sentono eleganti e questo aiuta allo stesso tempo la regia perché aiuta il movimento. Maggio che aiuti anche a cantare perché se non ho il problema di come mi sento sono libero poi di esprimermi anche. Quindi se uno si sente nella parte è più contento, quindi questa è una produzione che io vedo, lascia i cantanti raggianti perché dicono finalmente ma io quella frase la posso cantare come me lo sento interiormente, perché hanno come regista uno che sa molto bene. E' molto importante avere un regista che è cantante. Esatto, come si sente fisicamente e questo senza perdere nulla, anzi aumentando e sottolineando la drammaticità. Quindi il mio lavoro è cercare di armonizzare un po' tutti questi concetti e cercare di illuminare la partitura di modo che si vede sempre molto bene, che abbiamo visto tante produzioni di buiore nella lirica moderna, che si è sempre molto ben illuminato, però allo stesso tempo che abbia i colori della musica, di cercare di proporre insieme a Luciano delle soluzioni coloristiche che esaltano la scenografia molto bella di Enrico e allo stesso tempo accompagnano passo per passo la musica e soprattutto in modo che il pubblico non avverte un cambio di luce, perché nel momento in cui il pubblico dice Ah, è cambiata la luce, vuol dire che abbiamo sbagliato noi. Non ha funzionato qualcosa. Sì, perché l'effetto della luce dovrebbe essere un po' ipnotico per il pubblico, dovrebbe essere qualcosa che li aiuta ad entrare dentro il dramma e a concentrare su quello che cantano gli artisti principali sulla scena e non qualcosa che è fino a se stesso. Quindi cercare di fare tutte queste cose poi naturalmente in quest'anno verdiano in cui... Aspetta, siamo ancora per un mese e mezzo nel bicentenario. Eh sì, poi in una città, a me mi fa molta impressione perché siamo nelle città che Verdi ha letto, ma non per due minuti, per 40 anni della sua vita Giuseppe Verdi ha camminato per queste strade, probabilmente ha frequentato questo teatro, ha conosciuto le stesse viste che conosciamo noi e quindi sentendo veramente un portatore in qualche modo di questa celebrazione che forse l'Italia in generale avrebbe potuto vivere un po' meglio perché celebrare i più grandi compositori dell'Ottocento di opera poteva essere una cosa un po' più esaltante. Non lo dico a noi, sicuramente poteva essere una cosa più esaltante. D'altra parte, il 13 è stato veramente, abbiamo avuto Wagner e Verdi e per giù anche Benjamin Britten che è solo 100 anni però... E dai me, il povero è dimenticato, Mascagni. Mascagni finisce nel dimenticatorio. Sì, totalmente, no? Il portatore del verismo, questo teatro l'ha celebrato con Cavaloria Rusticana ma ahimè in generale in Italia non c'è stata molta attenzione. Comunque trovo che si deve fare anche una decisione sullo spessore perché capisco bene che Britten, un compositore che a me piace molto, è un compositore importante, forse è uno dei compositori del secondo novecento più vissuto, più celebrato, no? Però certamente c'è un abisso tra questo e i Verdi perché il Verdi è l'uomo che non solo domina l'ottocento ma che prepotentemente nel novecento e nel nostro duemila che è visto e stravisto su ogni palcoscenico mondiale, no? Fu il vero uomo di teatro italiano. Noi in Italia abbiamo un'anomalia, no? Tra Goldoni e Pirandello non abbiamo avuto grande teatro perché tutto lo spazio l'ha preso Giuseppe Verti. Esatto. L'uomo di teatro. L'uomo della musica. L'uomo dell'eccellenza, sì, è stato musicista l'uomo di teatro. E che a me dispiace un pochino che non si sottolinea anche la rivoluzionaria natura di questo Rigoletto, no? Se noi pensiamo del contesto in cui è nata questa opera fa un po' impressione. Le Roassamuse. Le Roassamuse perché Victor Hugo nel 1831 ha messo in scena l'opera teatrale che era una cosa abbastanza, rivoluzionario, no? E ha messo in scena un racconto in cui il re non era un uomo di grandi virtù ma era Francesco Prima che era un libertino. Certamente il libertino che ha portato in Francia la grande tendenza del rinascimento italiano, no? Con Leonardo da Vinci, no? Però è comunque un libertino. E l'idea che ci fosse un attentato alla vita di un re libertino nella Francia della restaurazione era una cosa scioccante. Per cui nonostante che la legge diceva che ci sarebbe stata mai più la censura, all'indomani della prima dell'opera è stato vietato e così è rimasto per 50 anni. Quindi Verdi quando prende in mano questo dramma a soltanto 20 anni dopo la prima e che decide di metterlo in scena in un posto dove c'era la censura austriaca, molto forte, quindi a Venezia, prende un rischio enorme, prende un rischio di essere accusato, di essere contro il regime austriaco in Italia. E la cosa curiosa è che è riuscita a imbambolare il critico, la censura in una maniera incredibile. Cioè la censura alla fine si è occupata di preoccuparsi se era morale mettere un sacco sulla scena. Hanno trovato brutto, anzi osceno, mettere un sacco con una persona morta dentro. In qualche modo il governatore austriaco non si è soffermato sul racconto. Sì, ha sviato l'attenzione dal... Ha detto ho fatto un duca invece di un re. Il re era stato degradato a duca, i Gonzaga già si erano estinti, quindi nessuno poteva lamentarsi. Nessuno poteva lamentarsi, però il concetto del regicidio, il concetto dell'ammazzare... Certo, il concetto che l'attentato al potere rimaneva bene o uguale, non lo hanno notato. Ecco, il gobbo che le persone trovavano usceno... Certo, la figura di protagonista è un deforme. Un deviato di Dio, in qualche modo. Questo scioccava moltissimo il pubblico. Quindi Verdi prende un rischio tremendo, toccando in quegli anni delle tematiche estremamente scabrosi. Quello di una donna cortigiana intraviata... E sono proprio una dietro l'altra. In meno di due anni lui scrive tre grandi capolavori. E per ultimo Trovatore, in cui una vecchia pazza ammette di aver ammazzato, bruciato un bambino, che è il suo figlio, e di aver recuperato e di aver ammato il figlio che voleva uccidere, quello del nemico, il conte di Luna. Quindi Verdi cammina su un ghiaccio fine in tutto questo periodo. La trilogia popolare è terribile dal punto di vista delle tematiche. Ora, se noi pensiamo che in questi anni abbiamo i martiri del bel fiore, e che Verdi in questi anni si occupa di dare i soldi alla causa per comprare i fucili, deve far riflettere un attimino, perché eravamo in pieno regime oppressivo, in cui lui sfida il regime... Quindi non ha paura di esporsi, certo, assolutamente. No, si espone in modo artistico, in modo molto drammatico. E trascina dietro tutto un pensiero, una filosofia, giustificandolo. E la cosa che affascina lui della figura di Rigoletto è quello che ci affascina tutt'oggi, che Rigoletto è un contorto, è un cattivo, perché il mondo lo ha fatto diventare così. È una vittima in realtà di questo meccanismo, che non si sa che esprimere così. Ecco, e la cosa interessante è che siamo nella psicologia antiliteram, perché lui dice, sottolinea questa cosa, che lui è stato trasformato dall'ambiente che frequenta. E penso che al giorno di oggi pensiamo molto di questo problema, di come l'ambiente crea l'essere umano. Verde era già a pensare 150 anni fa, 160. Ha inventato la moderna psicanalisi. È arrivata di lì a poco, una cinquantina d'anni dopo in realtà. Però è molto avanti lui nel pensiero. Beh, sicuramente. Lui aveva cominciato con Lady Macbeth, le primi scavi psicologici, da limpo. E questo grande attenzione a Shakespeare, questo studio continuo delle opere. Che riprenderà poi il finale con Boitoli. Il giovane che affianca il grande vecchio è una storia bellissima in realtà. Esatto. Otello poi lo avremo quest'anno. Manca da 45 anni da Genova. L'ultima volta c'era Tito Gobbia, il Margherita, l'ho visto anch'io. Ma penso un po'. Da quanto tempo manca da Genova. È incredibile. Noi ora viviamo in un mondo dove, ahimè, sono diventati fuori il repertorio Aida, Otello, Falstaff, Trovatore soprattutto. Ci sarebbe da dire lungo perché è un gran problema della modernità che abbiamo un po' perso questi titoli. E magari vediamo invece Peter Grimes. Che è una cosa importante. Che è una cosa importante ma stiamo parlando ovviamente di un'altra cosa. Però di un'altra levatura, sì. Il tempo è tiranno purtroppo. Il regista è due o tre volte che fa segno non a lei ma a me di scannarmi. Quindi io che ci tengo moltissimo alla mia testa, malgrado abbia pochi capelli, non mi resta che ringraziarla tantissimo di questo intervento. E ci si vedrà molto probabilmente ancora. Perché non è detto che sia di nuovo che si venga ripreso questo regoletto ma in altre occasioni l'aspettiamo qui a raccordare con la maestria con cui ha fatto questa. Abbiamo imparato che cosa fa. Grazie mille. Grazie a voi.